Gli omega 3 sono degli acidi grassi essenziali per il nostro organismo. Essenziale significa che non riusciamo a produrlo autonomamente ma deve essere introdotto attraverso la dieta. L'hanno molteplici attività sul nostro organismo, in particolare fondamentale l'attività cardiovascolare e cardioportativa, proprio perché gli omega 3 consentono di ridurre i livelli di trigliceridi e di colesterolo cattivo, ovvero l'LDL, e aumentare invece l'HDL. In genere hanno anche attività ipotensiva e antiaggregante, quindi vanno a inibire la possibilità di andare incontro ad ictus e infarti e in generale agiscono in maniera positiva su tutto il sistema cardiovascolare. Hanno anche attività antinfiammatoria perché aiutano a combattere patologie come il morbo di Crohn, la rettocolite orcerosa e hanno anche degli effetti positivi per combattere l'osteoartrosi, proprio perché vanno a inibire la degradazione progressiva della cartilagine a livello articolare. Hanno anche un'attività neuroprotettiva perché aiutano a prevenire patologie neurodegenerative come l'Alzheimer, come la terosclerosi, e in generale intervengono anche nella formazione del tessuto nervoso a livello fetale, quindi è importante che anche le gestanti vadano a tenere sotto controllo questi livelli ed eventualmente integrare sia con l'alimentazione che con integratori appropriati. Hanno anche un'attività sullo sviluppo del sistema visivo, quindi vanno a mantenere anche la rete capillare oculare e quindi la salute della retina. In generale vanno anche a proteggere la salute di capelli, unghia e cute, quindi mantengono anche la pelle ben idratata e giovane. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS